Una delle grandi sfide del public speaking è la gestione della slide. Molti di noi sono abituati a parlare avendo una slide dietro di noi. Qualche volta addirittura noi commentiamo delle slide che sono sugli schermi dei nostri ascoltatori, ma qualche volta i nostri ascoltatori non hanno nulla, vedono noi e una slide. Allora qui c'è una regola molto semplice, o guardano noi o guardano la slide. Perché? Cos'è che non deve accadere? Non deve accadere che noi impalliamo la slide, quindi non si capisce se al centro della scena c'è chi parla o la slide. Ancora peggio, e non deve accadere, c'è un oratore che passa il suo tempo a guardare la slide insieme al suo pubblico. Io illustro la mia slide guardandola e do le spalle al mio pubblico. Pessimo da evitare assolutamente. Quindi, idealmente, se sono io al centro della scena, spengo il PowerPoint dietro di me. Non esiste possibilmente. Io parlo e la slide tasce. Poi, quando ho bisogno di attivare la slide, mi faccio di lato e lascio che il pubblico guardi la slide. Io non dirò nulla. La slide deve essere in grado di parlare autonomamente al pubblico. Quando il pubblico avrà consumato la slide, allora gli sguardi di tutti torneranno su di me e io tornerò al centro della scena.